No, penso che l'internet fa parte della nostra giornata oggi, quindi ovviamente che dobbiamo mettere la sfilata. Penso che anche è un modo da dare informazione, da dare miso pulci, quindi è con piacere che siamo anche presenti. E questo non toglie esclusività? Cioè c'è un po' chi pensa che internet sia un'apertura, cioè non puoi filtrare chi ti viene a vedere? Io non penso a questo. Penso che voglio che tutto il mondo amo Pucci come lo amo io, quindi se le persone lo vede, spero che sono come me.